Molte volte quando il sindaco o qualche componente dell'amministrazione parla di turismo sentiamo ripetere parole come distagionalizzazione, boom di presenze, qualità, settore in crescita. Ma è veramente questa la realtà? A primo impatto la risposta che molti danno è no. In quanto le attività turistiche lamentano un calo di presenze e una scarsa qualità degli ospiti con conseguente ripercussione economica. A denunciare in una nota stampa l'andamento turistico del comune di Castellabate il consigliere di opposizione Luigi Maurano. Ma si sa, continua Maurano, non avendo la conferma molti conservano questa sensazione per loro stessi facendosi assuefare dagli annunci degli amministratori pur non trovando riscontri oggettivi nella quotidianità lavorativa. Per questo motivo spinto da curiosità scientifica su di un tema che rappresenta il cuore dell'economia locale ho richiesto all'EPT, ente provinciale per il turismo, i dati ufficiali degli arrivi e delle presenze turistiche del comune di Castellabate dal 2009 al 2017. Stiamo parlando, sottolinea Maurano, dei movimenti alberghieri ed extra alberghieri. Per capirci, gli arrivi sono le persone fisiche che vengono sul nostro territorio, mentre le presenze sono il totale dei giorni di permanenza di queste persone. Ai fini della ricchezza del settore turistico le presenze hanno logicamente maggiore impatto. Dal 2011 al 2017 c'è stato un netto e continuo calo delle presenze. Siamo passati dalle 457.000 presenze nel 2010, prima ancora che uscisse il film benvenuti al sud, alle 182.000 presenze nel 2017. Anche gli arrivi sono calati passando dai 51.000 del 2010 ai 39.000 del 2017. Si è passati in media da un pernottamento dei turisti che durava nove giorni nel 2010 ad una media di quattro giorni nel 2017. Diminuiscono anche le presenze a settembre e ottobre certificando un passo indietro verso l'obiettivo della destagionalizzazione turistica. Si dimezzano anche gli arrivi e quindi esponenzialmente anche le presenze dei turisti stranieri passando dai 10.659 del 2010 ai 5.455 del 2017. Insomma, continua il consigliere, se il comune di Castellabate è un territorio che vive di turismo, dalla lettura e analisi di questi dati oggettivi e non di parte possiamo affermare con cognizione di causa che l'amministrazione Spinelli ha letteralmente fallito. Ma lo si poteva intuire facilmente dai consolidati ritardi del presentare il tabellone degli eventi estivi e la scarsa capacità di attrazione di quest'ultimo. Lo si poteva capire tristemente dalla scarsa affluenza serale in estate, tolti quei 20 giorni di agosto, continua Morano. Lo si poteva percepire dalla bassa qualità dei nostri ospiti. E conclude, sento sempre dire che le amministrazioni si giudicano dai risultati e in questo caso i dati parlano chiaro. Il resto sono scuse di chi diceva di voler fare meglio mentre stava già facendo peggio.